Durante la guerra civile, nonostante tanta difficoltà per le feste, i cattolici, sia dal sud sia dal nord, hanno continuato a frequentare questo grande santuario. Allora questo santuario di Madonna, come una mamma, ha portato i figli di tutti e due gruppi etnici, un centro di riconciliazione. Sono contento che il Papa va al santuario di Madu perché dopo 30 anni di guerra ci sono tante persone ferite, soffrono a causa della guerra civile, perché ci sono tante vedue e poi tanti orfani e poi le persone sono psicologicamente ferite a causa della guerra. Nel continente asiatico, dappertutto, che attira l'attenzione e la santità, la simplicità. Allora Papa Francesco ha queste caratteristiche, sicuramente attirerà l'attenzione delle persone e di altre religioni anche.